Bentornati a Agenti in Azione, il nostro format dedicato al mondo della ricerca della propria casa ideale. Lo facciamo come sempre con Marco Meoni, titolare del Nido Immobiliare, che oggi è accompagnato da Camilla Cavalieri. Un'altra agente che quotidianamente è in azione sul campo. Allora Marco, sono già un po' di settimane che ci incontriamo, però forse i nostri telespettatori dopo aver sentito un po' tutte le vostre modalità di azione appunto, dalla comunicazione innovativa alla selezione degli immobili, il contatto col cliente, ecco si domandano. Ma allora, come faccio io però a capire che la gente a cui mi sto rivolgendo è persona, agenzia competente, è la persona giusta, è appunto l'azienda giusta? Perché non è che si compra casa 20 volte nella vita, magari si compra una volta sola, per cui non ci sono magari tante esperienze precedenti. Per cui, a cosa devo stare attento? Sì, ottima domanda Paola, ottima domanda. Allora, ci sono tantissimi fattori, te li riassumo un pochino magari su quelli più interessanti. Allora, il primo fattore che sembra scontato ma non lo è, è quello di verificare se l'agente con il quale stiamo parlando è effettivamente un agente. Ah, perché c'è anche questo rischio. Eh, c'è anche questo rischio, quindi che abbia l'abilitazione, che abbia fatto un corso alla Camera di Commercio, alla Conf Commercio, ora ci sono tantissimi corsi online, e che abbia superato un esame. Ecco, quindi esiste un registro degli agenti. Un ruolo, ora è un ex ruolo, però c'è e quindi per esercitare la professione, cioè proprio per fare delle trattative con i clienti è necessario attraversare un percorso di studi, come è giusto che sia, naturalmente. Poi, una cosa che consiglierei, cioè anzi, una cosa che consiglio spesso è quello di verificare se l'agenzia alla quale ci si rivolge ha in mente, ha un piano marketing, ha degli strumenti per vendere realmente il tuo immobile, che sia in grado di pubblicizzarlo al meglio. Ecco, non come accadeva un tempo, magari, quello è un mediatore, conosce tante persone, passa parola. Brava, esattamente. Non è più così. No, in realtà no, perché questa attività, se bastasse semplicemente questa attività, allora consiglierei direttamente di farla da soli. Però richiede veramente un lavoro certosino, in molti casi, proprio sulla ricerca dell'acquirente. E quindi verificare con quali strumenti questo agente proporrà il nostro immobile o ricercherà l'immobile giusto. Esattamente, esattamente. Poi un aiuto importante ci viene anche dai social, da Google, eccetera. Quindi andare a vedere un po' l'azienda o la gente al quale mi rivolgo, che recensioni ha, insomma, cosa dicono le altre persone di lui o dell'azienda. Come facciamo quando cerchiamo un buon ristorante. Esattamente, la stessa identica cosa. Oppure anche andare a verificare che competenze ha, cioè che storico ha, che tempi ha per vendere un immobile. Quanti immobili vende, Paola? Cioè si trovano questi dati? Assolutamente. Cioè, se io parlo con un agente, lo posso fare anche in autonomia, però tendenzialmente sapere se è una persona che vende un immobile al mese, o ne vende cinque, o è qualche anno che non vende più una casa, mi può aiutare per capire se è la persona giusta per me oppure no. Ah, ecco, perché il rischio che nel tempo si è verificato è quello di immaginare che la gente è semplicemente quello che ha un bel mazzo di chiavi, per cui ti apre molte porte, ti fa vedere molte case. Ecco, tendenzialmente è un po' l'immaginario, è un po' questo, cioè quello che arriva la mattina e ti porta a fare il giro di più case. Ok, sì, lo puoi dire anche peggio. Cioè, nel senso, viene visto un po' come quello furbino che si prende un sacco di soldi. E infatti il concetto è un po', il rischio è questo, insomma, di immaginare la gente in questo modo. Allora, si può assolutamente dire, ed è giusto anche così che si dica, ma perché? Perché l'immagine che noi come categoria abbiamo data all'esterno è un po' anche quella. Allora, in tutte le categorie, in tutte le categorie professioniste, non solo c'è chi è più bravo, chi è meno bravo, eccetera, nella nostra categoria probabilmente mandare il messaggio all'esterno di quello che facciamo non l'abbiamo proprio fatto, ok? Perché comunque il nostro ruolo è quello che prevede un po' tanti ruoli insieme, perché dobbiamo essere un po' tecnici, un po' venditori, un po' avvocati, un po' commercialisti. Dobbiamo veramente sapere moltissime cose e tenere a mente tantissime cose. Cioè, tu dici alla fine quello che si vede e che è appunto il momento in cui ti apro la porta e in cui ti faccio firmare la compravendita e quindi anche la percentuale, ecco, non è solo quello che poi viene fatto. E la tua giornata, ad esempio, Camilla, com'è? Esatto, è proprio così come hai detto te, noi passiamo un po' per quelli che andranno a aprire le porte e basta. In realtà non è così, infatti abbiamo voluto fare proprio un video, poi mi sono divertita anche un sacco a farlo. È un video che racconta un po' la giornata tipo della gente immobiliare, per far capire appunto che non siamo solo quelli che ti aprono la porta, ma in realtà ci sono un sacco di cose sotto. Quella è, diciamo, la punta dell'iceberg e poi sotto dobbiamo riuscire a pubblicizzare l'immobile al meglio, quindi anche renderlo il più possibile appetibile sul mercato, tramite le foto, tramite l'home staging, contattare i tecnici, contattare i notai, quindi occuparsi anche di tutta la parte burocratica, amministrativa, insomma, che c'è dietro la vendita di un immobile. Questo per il venditore e dall'altro lato anche per l'acquirente, cercare di capire al meglio le sue esigenze anche per non fargli perdere tempo, quindi portarlo a vedere gli immobili giusti e accontentarlo il prima possibile. Una professionalità che effettivamente va dal tecnico allo psicologico, perché forse c'è anche quell'aspetto lì, capire di che cosa ha bisogno anche a livello di relazione il cliente. Sì, ci sono clienti diversi tra loro, c'è chi ha bisogno di non essere disturbato, essere portato insomma fino a rogito e oltre, però comunque senza essere nemmeno interpellato e chi invece vuole essere aggiornato su tutto, chi ci tiene anche a passare spesso in agenzia, quindi avere un dialogo su quello che stiamo facendo, su come lo stiamo facendo, dipende dal cliente, però insomma siamo noi a doverci rapportare con lui come lo richiede, con la professionalità, quella sempre, però insomma con le modalità che ci richiede lui. Ora voglio vedere il video come l'avete realizzato, ma ecco questo prodotto video che avete fatto, anche questo viaggio sui vostri canali social. Assolutamente, assolutamente, perché questo è una di queste forme di divulgazione, di conoscenza del settore, un po' come abbiamo visto l'altra volta, quindi ti sei prestata a questa… Sì, è stato divertente. È stato divertente. Allora, andiamo a vedere Camilla in azione nella sua giornata tipo. Ciao, buongiorno a tutti, sono Camilla, benvenuti alla prima puntata di Vite da agenti del nido immobiliare. Oggi passerete una giornata con me, sono alle 7.30 e andiamo in ufficio per una riunione. Adesso abbiamo una riunione, questa è in procedura. Buongiorno. Ciao, buongiorno. 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 Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao, siamo a fare un servizio fotografico per mettere in affitto questo immobile. Abbiamo fatto il servizio fotografico, adesso andiamo in agenzia e pubblichiamo l'annuncio. Stiamo andando a far vedere un immobile, abbiamo uno speed dating house organizzato, andiamo. Ciao, grazie mille per aver passato questa giornata con me, per avermi accompagnato in tutti i miei appuntamenti, spero vi siate divertiti. Come avrete visto il lavoro dell'agente immobiliare è un lavoro super dinamico, è sempre a contatto con le persone, del resto è il lavoro più bello che c'è. Non perdetevi la prossima puntata con un'altra gente del nido immobiliare. Ciao. Ma guarda un po', e io che credevo che il lavoro dell'agente immobiliare fosse un lavoro rutinario, invece è un lavoro creativo anche. Assolutamente sì, cambia di continuo, una giornata non è mai uguale all'altra. Ci sono anche proprio degli aspetti proprio creativi nel senso del cogliere nell'appartamento quello che può essere aggiustato, valorizzato. Esatto, abbiamo proprio un servizio di home staging, proprio per rendere la casa più appetibile, non si tratta solo di spostare gli oggetti in modo tale che le foto vengano al meglio, mi è capitato di rimontare i mobili, pulire a terra, quindi rendere la casa il più presentabile possibile. Abbiamo anche un servizio superiore addirittura per gli immobili vuoti, tipo da ristrutturare, un servizio con immobili in cartone che sembrano reali, quindi proprio per allestire la casa come se sembri abitata. Ah, ecco, che non vuol dire vendere quello che non è, cioè non è mascherare quella macchia d'umido per non farla vedere al cliente. No, è far vedere al cliente come potrebbe essere. Ecco, perché c'è anche questa difficoltà dell'immaginare, ma qui ci starà il letto, l'armadio? Esatto, anche, anche, oppure non saper bene come disporre i mobili o come organizzare la casa, ecco, assolutamente. E quindi provare a, in qualche modo, fargli visualizzare quello che potrebbe essere, fargli immaginare cosa si può fare in quegli spazi. Questo per chi compra e per chi vende? Per chi vende è assolutamente un servizio molto utile, anche perché con questo servizio riusciamo a massimizzare il prezzo. Ah, come dire, valorizzando gli spazi nel modo giusto, chi compra dà più valore a quell'immobile. Esatto, sì, un immobile comunque vuoto, completamente da ristrutturare, è sicuramente meno appetibile di un immobile che, sì, è da ristrutturare, ma ti facciamo vedere come può essere, quindi come può diventare. Il valore che con pochissimi accorgimenti può acquistare. Eh, perché in effetti la grande difficoltà è proprio immaginarsi in quella casa che vedi per la prima volta, e questo è, diciamo, quell'aiuto in più. È un aiuto in più, sì, esatto. Ma abbiamo detto che lo scopo è, diciamo, poi raggiungere abbastanza rapidamente il matching e quindi poi concludere l'acquisto. Però io ho l'idea che probabilmente il vedere più case mi tranquillizza anche, cioè mi fa capire che sul mercato ho scelto la cosa giusta, quindi però un po' di case le devo vedere. Sì, allora guarda, c'è proprio una media che è uscita poco tempo fa su Idealista di un numero di 15 case viste prima di acquistare una casa, ok? È una media chiaramente che prende tanti elementi insieme perché c'è anche chi compra al primo colpo, insomma. Io credo che il nostro ruolo importante sia quello di aiutare appunto la persona nella selezione dell'immobile, quindi grazie ai nostri strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione di poter velocizzare questo processo. Quindi vederle sì, ma vedere quelle giuste. Sì, perché se no tante volte, sai, ti confondi anche un po' troppo, no? Perché la casa perfetta alla fine non esiste, è quella dove sta, insomma, la casa perfetta. È vero. Beh, guarda un po', sono molto interessanti queste conversazioni che facciamo con voi agenti in azione sul campo, proprio perché ci fanno capire come il mondo della compravendita immobiliare sia variegato e che richieda competenze così ampie che poi, insomma, lo fanno essere un lavoro anche creativo, anche tecnico, ma anche giuridico, ma anche, insomma, con competenze di comunicazione. Insomma, è molto interessante. E quindi grazie per queste vostre informazioni, speriamo di aver aiutato i nostri telespettatori un po' intanto a muoversi, anche a muovere i primi passi un po' nella importante ricerca della propria casa. Ci vediamo la prossima settimana e che mondo andiamo a esplorare? Allora, non ti dico tutto, però la prossima settimana ti dico che pensiamo invece a chi è un po' che sta cercando casa e ancora non l'ha trovato, cioè ha guardato tutte le riviste, tutti i portali, eccetera, e non ha trovato niente. E noi abbiamo pensato a qualcosina per aiutarlo. Ah, questo è interessante, quindi vediamo qual è la strategia in questo campo. Allora, alla prossima settimana con agenti in azione. Grazie a voi. Allora, alla prossima settimana.